Buongiorno a tutti, qui è sempre Ardino Schianato da iarforex.com e quest'oggi parleremo del libro, questa volta il New Market Wizard questo qui, quindi non quello verde di cui ormai parlo da tempo ma The New, che è uscito un po' dopo quell'altro quindi ci sono degli altri, come vedete qui ci sono degli altri trader che vengono intervistati e su cui ho cercato di estrapolare, almeno per questo video un paio di risposte interessanti che tra l'altro una risposta è proprio molto incline al mio modo di tradare e anzi, sembra quasi che l'abbia detta io perché la dissi qualche tempo fa poi è diventato anche un po' un nostro motto di Iaforex e l'ho ritrovata leggendo l'intervista a Tom Basso un trader non conosciuto assolutamente nel mondo del trading però intervistato da Jack Schwager eccolo qua, lo faccio rivedere, questo è il libro e in questo caso secondo me è molto molto interessante vi ho già messo qui il fondo del libro con l'inizio, l'introduzione che fa appunto Schwager di Tom Basso perché è davvero interessante all'inizio lui fa un'introduzione diciamo che già il titolo, come lo titola lui il capitolo dedicato a Tom Basso lo chiama Mister Serenity quindi signor serenità in ogni capitolo lui dà un titolino al trader che va a intervistare e ne vedremo altri ho già trovato altri estratti molto interessanti comunque intanto questo lo chiama Mister Serenity proprio perché il trader Tom Basso aveva molto a che fare anche con tutta la parte diciamo emotiva, psicologica noi sapete che in IR Forex abbiamo sempre cercato di focalizzarci non solo sulla parte tecnica non solo sul money management ma anche sulla parte diciamo mindset come spesso diciamo anche grazie ad Antonio Itzi e a tutti i webinar, corsi e tutte le cose che insomma cerchiamo di andare a divulgare anche da questo punto di vista Tom Basso voglio prendervi solo l'inizio almeno dell'introduzione per farvi capire che cosa dice appunto Schweiger e dice che all'inizio lui non voleva cioè non aveva in mente di andare a intervistare Tom Basso perché sì il suo track record era sicuramente interessante visto che di media aveva portato a casa un 16% annuale stiamo parlando comunque alcune volte non sempre in questo libro di trader che facevano parte di istituzioni di hedge fund eccetera eccetera o comunque di società loro che gestivano capitali e quindi potete ben capire che performance comunque a doppie cifre sono difficili da fare si parla di tanti soldi e comunque lui diceva sì una buona performance però niente di così straordinario seppur ha sempre battuto l'indice S&P 500 come benchmark diciamo di riferimento ogni anno ma lui dice Schweiger bisogna anche vedere no come sono calcolati questi diciamo come sono calcolati come è calcolato il successo perché ovviamente dice sì i risultati sono migliori della media molti gestori dice non arrivano mai a battere l'indice però la cosa bella che dice è che se tu vai a identificare il successo in termini di most bucks fatti cioè più soldi fatti probabilmente basso non era uno dei trader da mettere in questo libro però lui dice nel trading il successo non si va a riferire per forza solo ai più soldi ovviamente ci deve essere una performance positiva qua stiamo parlando di una persona costante che ogni anno batteva l'indice e ha fatto un 16% medio annualizzato quindi stiamo comunque parlando di un gran trader ma appunto dice se il successo è comparato in most bucks quindi più dollari, più soldi fatti magari non lo mettiamo ma comunque se invece il successo viene diciamo calcolato viene come dire viene associato a non most bucks ma good bucks great life quindi soldi buoni e grande vita e vita grande, vita bella allora a basso di basso ce ne sono pochi quindi lui dice sì in effetti in questo libro poi lo dice anche in questo libro mi sono sempre focalizzato su i trader che hanno fatto diciamo le migliori performance migliori track record magari tenendo a lato altri non utilizzando altri ma in questo caso basso oltre ad avere comunque una buona performance non tra le migliori che si potevano avere ma sicuramente una performance costante e a doppia cifra diciamo però che il modo di vivere e per i soldi che ha fatto di basso probabilmente ce ne sono pochi di trader perché infatti poi durante l'intervista si capisce che questo basso che lui chiama mister serenity il signor serenità era proprio un tipo tranquillone che gestiva le cose in maniera molto rilassata rispetto a molti trader molti insomma alcuni trader che invece su cui insomma ho letto le interviste e devo dire che invece lì ci sono alcuni che sono invece magari più portati a magari performance più ampie più grosse più importanti però magari con più stress più una gestione diciamo anche della propria emotività molto più montagne russe ecco invece in questo caso mi è piaciuto subito anche il titolo e allora voglio andare via ovviamente non prendo tutta la tutta l'intervista che però è bellissima da leggere anche tutta ma diventerebbe diciamo un video di un po' lungo perché l'intervista comunque è è abbastanza lunga ma voglio prendervi una parte no che dice questo è questa qua queste due domande queste due domande che lui gli fa le due risposte allora dice vabbè un trader ha descritto il flusso il flusso emozionale no che gli dà il trader che gli dà il trading come segue quando sto prendendo soldi sono arrabbiato perché sto perdendo quando sto facendo soldi sono ansioso diciamo perché sono preoccupato che di non essere in grado che non sarò in grado di mantenere questi guadagni e di quindi chiudere con un profitto la posizione allora il buon basso mister selenity dice che gli piace andare a comparare le emozioni nel trading a una molla con le emozioni che diciamo sono strecciate su e giù come una molla vanno su e giù avanti e indietro mentre stanno andando su e giù diciamo che la la situazione è molto thrilling dice no quindi è molto eccitante no da quella quella sorta di thrill no è anche difficile tradurlo in questo caso comunque di eccitazione di adrenalina ma alla fine la molla finisce di muoversi no cioè nel momento in cui fa su e giù poi però rimane praticamente a un certo punto arriva e rimane dove rimane dice burnout sets in burnout sono andato anche a leggere un po' la traduzione su questo perché e dice è proprio quando un'esperienza si esaurisce e diminuisce l'interesse no quindi è un termine un po' come dire di slang un po' un po' in gergo quindi l'emozione diciamo finisce ecco finisce l'interesse finisce e tu realizzi che forse non c'è stato tanto divertimento nell'essere in quella in quell'andamento in quella in quella montagna russa di emozioni no tu vedrai che se riuscirai a mantenere le tue emozioni in equilibrio nel centro alla fine ti divertirai di più no spesso noi questo lo diciamo anche con Antonio cioè alla fine l'equilibrio emotivo porta poi anche un equilibrio di trading eccetera però cercare di non essere in quel rollercoaster no in quella montagna russa che ti porta su e giù perché poi alla fine addirittura ti trovi in burnout no ti trovi con comunque esaurito stanco e non e non ti sei nemmeno divertito voglio dire oltre a magari aver perso soldi e quindi riuscirai a capire che con le emozioni in equilibrio nel centro come una molla alla fine è la cosa più divertente e anche più efficace e allora il il buon Schweiger gli dice come 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 raggiungi questo balance no questo questo equilibrio e lui dice una cosa che ripeto io non l'avevo mai letto questo questo basso sinceramente non me lo ricordo se l'avevo letto però non me lo ricordavo e dice io focalizzo la mia totale attenzione sul tradare bene lo diciamo sempre lo diciamo da anni che bisogna focalizzarsi sul tradare bene diciamo che per fare un trading profittevole non bisogna focalizzarsi su il fare i soldi adesso o comunque su sono fuori dal mercato da due giorni perché non c'è l'opportunità devo fare perché altrimenti non faccio il mese non guadagno ma e quindi focalizzarsi su cercare di guadagnare focalizzarsi su cercare di guadagnare nel trading diciamo che non è proprio il suo ma io credo in generale nell'ambito imprenditoriale cioè comunque se tu hai un'impresa devi magari trovare delle idee magari per migliorare il tuo profitto quindi devi cercare di focalizzarti non sul fatto che da oggi a domani tu farei soldi così ma cercare di focalizzarti su che cosa lui dice focalizzarsi sul tradare bene quindi sul fare bene la propria attività un imprenditore la sua attività il trading l'attività di trading quindi cosa vuol dire tradare bene che quando ho un mercato davanti ovviamente devo avere un metodo devo cercare di tradare bene rispetto al mio metodo quindi non focalizzarmi sul fatto che ah adesso c'è questo e da qui mi posso portare via tutti i soldi del mondo ma su benissimo c'è quello che voglio c'è quello che fa parte del mio piano quindi per far sì che io realizzi il mio obiettivo che è il tradare bene devo appunto rispettare il mio piano quindi io nel mio devo tradare con la qualità non cercare la quantità devo cercare di trovare gli spunti che corrispondono alla struttura magari di un mercato che corrispondono al mio al mio piano operativo che è il mio piano annuale che poi viene però suddiviso in piani settimanali più operativi in base al mercato quindi devo cercare di tradare bene se non ci sono le diciamo le condizioni le opportunità che vengono confermate al mio piano si sta fermi quindi bisogna proprio focalizzarsi la mia totale attenzione è stato il focus sul tradare bene dice e lasciare poi finisce la frase che i risultati prendano cura di se stessi perché tradando bene poi i risultati vengono da sé diciamo questo è quello che vuole dire tradotto un po' in italiano poi vi dico l'intervista ha un sacco di cose interessanti veramente veramente bella una delle più belle interviste che ho letto di questo basso veramente molto molto bella e anzi ve la consiglio e quindi ecco il mio il video oggi voleva essere proprio probabilmente in qualche video in qualche webinar oppure chi mi segue nel platino sa che questa è la totale attenzione che bisogna avere nel trading tradare bene l'abbiamo scritto anche su su uno degli ultimi articoli del blog del sito Yalforex quando abbiamo parlato di qualità sopra la quantità nel fare trading tradare bene è l'obiettivo quindi il vostro obiettivo il nostro obiettivo quando facciamo trading è se abbiamo ovviamente un metodo ormai anche testato siamo esperti di questo è quello di concentrarci sul fare le cose fatte bene non sul ah adesso questa posizione mi fa avere dei soldi oppure è da qualche giorno che non faccio trading quindi non ho portato ancora a casa nulla è cosa di questo tipo ma focalizzarsi sul fatto che tradare bene fate conto che io facendo un'operatività che è multi day e multi week spesso non faccio mille operazioni al mese ma fare anche quelle 3-4 come si deve che vengono a rispettare il piano operativo spesso possono far chiudere un mese e poi ovviamente un trimestre un anno in modo positivo quindi focalizziamoci sulla sul fatto di tradare bene va bene quindi dopo questa questa intervista questa in realtà questa intervista queste due risposte all'intervista a basso io direi che ci possiamo salutare ovviamente vi chiedo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto di iscrivervi a questo canale se non siete ancora iscritti attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei video e delle live che facciamo noi ovviamente ci vediamo come sempre nelle live il lunedì e il mercoledì per il momento è tutto buon